40 minuti di colloquio. Tanto è durata l'udienza tra Papa Francesco e il cancelliere federale di Germania Angela Merkel. Durante l'incontro, a riferito la sala stampa della Santa Sede, si è parlato di lotta alla povertà e alla fame, soprattutto in vista del prossimo vertice del G7 che si terrà in Baviera, di sfruttamento degli esseri umani e dei diritti della donna, delle sfide della salute globale e della custodia del creato. Si è trattato anche del tema dei diritti umani e della libertà religiosa in alcune parti del mondo, accennando all'importanza dei valori spirituali per la coesione sociale. Infine, si legge nella nota, ci si è soffermati sulla situazione in Europa e si è sottolineato l'impegno per giungere ad una soluzione pacifica del conflitto in Ucraina.